Ciao a tutti ragazzi, sono Usless e bentornati in questo mio video. Oggi per la prima volta siamo su Assassin's Creed The Seat Dugate. Ok, sentiamo il dialogo, dai. Ok, quindi questi due sono i nostri bersagli, ok. Comunque ragazzi, in questi video non so ancora quanto farli durare, perché è la prima volta, quindi penso che li farò durare, non so, o una trentina di minuti, oppure, non so, 15 minuti e basta. Un po' più di 15 minuti, 17 minuti, va. Ok, sta arrivando il treno, che dobbiamo va? Ok. Ok, ci buttiamo su la libervolenza. Vive nella paura. Sono stati amici. Piantala subito, Jacko. Ok. Quindi siamo Jacko, vedi. Agnocca e... non so chi è questo. Ok, vai. Ora penso che tocchi a noi. No, ancora no. Ho ancora un altro video, vabbè. Comunque ragazzi, che volete una serie su questo gioco, mi raccomando, scrivetelo nei commenti, perché non so ancora se portavola come serie, oppure, che ne so, un'altra settimana, oppure il sabato. Oh, mazza, che cattivo. Ma do, mazza. Ho capito che è la prima di rivoluzione industriale, ok, la seconda, boh, non mi ricordo. Vabbè, è una delle rivoluzioni industriali, però, ammazza quanto... quanto deve rompere. Quindi... Ah, ok. Sono più o meno gli stessi domandi. Che comunque, ragazzi, io ho giocato poco gli Assassin's Creed. Che cosa c'è qua? Intruvolati? No, prima vi sto facendo... Boh, non lo so. Cioè, ho giocato questo Assassin's Creed, però poco, perché non... non sono mai stato, diciamo, un grande fan. Cioè, a giocare, ho giocato. Ho giocato al 3, al 2... Ma... Ti posso ammazzare? Oh, 10. 10, non lo so. 10. Mo' che ti posso spostare? 10, dai. Vabbè, no, bà. Lo bullizzo. Ah, ok. Ho già fatto la corsa acrobatica, quindi, che me prego. R2 per la corsa acrobatica. Oh, lo so, lo so. Tranquillo, lo so. Ok. Sabota. Bene. Come si fa? Oh. Cerchio? Ok, sì, sì. No smoking, papà. Il lavoretto. Va bene, continuiamo il nostro giro. Ah, proprio di là abbiamo andato, ok. 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 Ho fatto la cavolata. Quindi, ok. No, poveracchi, però. Mi fanno pena, sti bambini. Ma, tipo, non posso fare qualcosa di bello, ok. Ciao. Non vi posso, tipo, uccidere? Ok, no. Ok, fatto. Dobbiamo andare qua e sabotarle tutte. E non so quante sono, forse sono. Boh, quante saranno? Ma noi sabotiamo, noi cacchio ce n'è. Ok. Va bene. Ce ne manca ancora. Sabota e macchinari. Quindi non so quanto ci abbiamo, ce ne servono ancora. Noi sabotiamo, noi poi cacchio ce n'è. Tanto non so cavoli nostri. Ok. Stiamo a fare bordello. Boom. Allora, scusa. Ah, ok. Ho quadrato. Vabbè, io l'ho meno, poi. Vi posso pure depredare? Che cacchio. No, contrasta. Ok. Menalo. Muori. E muori. Va là, va là. Ah, ok. Proprio di prepotenza ci andiamo, noi. Rompi difesa. Ma stai quanti ce n'ho. E dai, e menalo. E, e menalo. E andiamo. Ok, ti posso trasportare, ma ti potrei predare, no? No, no, non vi voglio fare male, tranquilli. Tranquilli. Ma posso venire pure a caso? Ok, no. Non posso venire a caso. Tipo, ciao. Ok. Motivo, buttiamo giù questo. Non posso buttare giù questo, zi. Devo spostarmi più in vita. Buongiorno. Non pensate male. Sto solo aiutando la parria, tranquilli. Ah, cioè, tu con chi stai parlando, scusami. Ah, muori, allora. Oh, no. Non te... Non te che venga in grado. Intanto, 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 intanto. Ok. Ma dopo, questo qua lo vengo a uccidere. Ciao. Raga, questo qua, se c'è non la possibilità, lo ammazzo subito, eh. Perché stavo proprio sul cavolo, gente, che così. Devo raggiungere la, quindi direi di fare una cosa di questo tipo. Ok, ok. Andiamo sulla crew. Lanciamoci proprio di preferenza. Ok, tieni premuto. R2. L. E corsa... Così? L qual è? Scusami. L qual è? Questo? Ah, ok, eccome. Ce l'ho fatta. Quindi io direi... E scendi. E vi è c'è? Voglio, vedete? Vi è c'è? Ci vuoi venire? E deve essere il campo usivo? Sì, sì, lo so, lo so. Lo so, lo so, tranquillo. Però, appunto, ti voglio menare. Sì, ti vuoi venire? Ci vuoi venire? Eh, ci vuoi venire? Boh! Boh, 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 boh. Non so quanto ti conveniva. Infatti non ti è convenuto tanto. De Vreda di anni premuto, ok. Dammi un po' di su. Grazie, ti voglio bene. Che dai, tu? Eh, scusami. Muori. Vi è c'è? Vai, vogliamo un po' correre? Vuole un po' correre? Vuole un po' correre, vi è c'è? No, che cacchio? E muori. Ma cosa gli sta qua? Ok. Repediamo tutto qua. Comunque, ragazzi, questo primo video, quindi, non farò i tagli, non farò queste cose, diciamo. Perché magari voglio dire pure cosa ne pensate prima di fare qualche cosa. Eh, cosa, scusami? Cosami? Cosa? Ok, meno male. Ti depredo pure. Comunque, non farò tagli o cose del genere. Penso che questo primo video durerà abbastanza, tipo, non so, una mezz'oretta, penso. Penso due volte e quindici minuti, più qualcos'altro in più, perché... Grazie. È stato un piacere fare affari con te. No, bambino, tu... Ti voglio bene, bambino. No, no, tranquilla, no, scusa, non te voglio. Vabbè, vado, 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 comunque... Ok, quindi... No, non voglio salire qua. Voglio soltanto correre. Non voglio salire, non voglio salire, voglio solo correre. Ok, vediamo se c'è qualcun altro da uccidere. Levate da sta copertura, ok. Buon uomo. Grazie. Te l'hai? Oh. Vi è c'è? Ma che c... Ok, già era morto. Furio non è che sto tanto messo bene. Non ho visto la Y, raga. Cioè, se no... Cioè, il triangolo, la Y, non so, però ancora la Xbox. Grazie, eh, no. Grazie per i soldi, comunque. Ok, da qua dove vado? Vado qua. Le zone rosso e le minori possono evitare dalle guardie. Ok. Vieni sopra, andiamo qua. Ok. Di qua. Scendi. Ok, però ora voglio scendere. Ok. Furtività. Ok, con X se è più difficile, in rilare la rettima è più... Da in rilare la rettima è più rapidamente. Ok, il cerchio della furtività è molto bene, ci sono la parola di te. Ok. Da un riparo, il nip punto L2. E mirare. Poi premere L2 per lanciare i coltelli. Ok. Ok. Quindi così miro e così lancio i coltelli. Quindi mi metto anche così spavost... Muori. Muori. È l'erriocchio all'aquila, what the fuck. Grazie per i soldi, ti voglio bene. Allora, silenzio, silenzio, silenzio. Meglio non fa casino adesso, quindi... Sono estremamente concentrata, raga. Vediamo se c'è qualcuno. Non c'è nessuno, ok? Quanti coltelli ho? Tre coltelli. Ma non io posso riviare il coltello? Allora. Ti arriva. No. Va giù. Va giù. Ok, va giù. No, va giù. E va giù, va. Va giù. Ma che fa? Raga, ok. Ok, mi metto ancora... Vediamo se sta qualcuno. Sono sicuro, sicuro. Ok. Vediamo qua. Là già ne vedo uno. Quindi... Madonna, scusa. E... Sao co... No. Fermati, eh. Sao! Non l'ho fatta apposta, eh. È una cosa che capita durante il lavoro. Sono i miei fortuni sul lavoro. Non vengono ripagati i miei fortuni sul lavoro, eh. Uh, uh. Ma... Ciao! Bel bimbo! Ma tipo, per riprendere il coltello, raga, non posso? Ma davvero non posso? Allora, io sto zitto, 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 e faccio... Sao! Così almeno non lo spreco i coltelli. Beh, cioè, raga, siete nei commenti che sto... Oh, un coltello da lancio, almeno l'abbiamo ripreso. Ok, coltello da lancio. Tu puoi anche restare là dove stai. Che sta a fa' questo? Sì, sì. Oh, oh, raga. Questo voglio ero ovvio benissimo. Iiii! Ok. Fammo una cosa di sto tipo, eh. Prima se ne vede. No. Che cazzo? Sì, stanno questi qua che ti guardano malissimo. Ok, silenzio. Vediamo di viallo. Via, 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 corri. Ma muori. No. Schiva. E mu... Menalo, menalo, menalo. Menalo. E me... Però, dove sta il coltello da lancio, raga? Ammazza. È già morto, non serve che... Ok, tre coltelli da lancio, però già uno non ha spreco. Dove sta? Dove sta? Boh, vabbè. Noi dobbiamo arrivare... La sua, quindi vabbè, io faccio una cosa... Eee, vabbè, però... Ci vuoi venire? Ci vuoi venire? E viace, zio, e viace? E viace? Però io doi meno, eh. Non hai capito che te è meno. Ti faccio proprio male. Mena? Viace? Ok. Poi scrivermi nei commenti sempre se sto giocando bene o male, oppure proprio faccio cagare, devo terminare la serie, perché potrebbe pure essere. Ok, io direi di iniziare subito a salire. Se devo salire, manco... Manco cosa? Ok, se devo salire. Ancora stilt, tantissimo. Ah, ok, ora... Normalissimo. Zona non vietata. Cioè, ancora siamo in una zona vietata, però... Qua ci sono robe da rubare? No, eh. Sicuro, sicuro. Sicuro, sicuro. Ma perché questo qua è liato? Non ti posso uccidere? Sicuro? Ok, ragazzi, eccoci tornati. Questo qua è la seconda clip della... No, no, tranquillo, tranquillo. Tranquillo, non ti faccio niente a te. A quello di erro? No, 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 tranquillo. Poi a quello di erro non mi posso fare niente, vabbè. Tutti quanti buoni sono. Ok, ragazzi, concentriamoci un secondo sulla missione anziché cazzeggiare. Proprio, nel vero senso della parola, stiamo cazzeggiando. Dove stai? Dove vai? Raga, no, vabbè, il parkour ancora non lo so fare bene io. Allora. No, no, perché questo qua sta... Levate. Ah, aspetta. Vediamo. No, noi... Te levi, te levi, eh? Te posso uccidere? No, manca lui. Quelli sotto? Vediamo che sta qualche bimbo cattivo sotto. No, eh? Ok, sotto non ci sta nessuno, è cattivo. Scusa, 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 bambino, eh? Capito, però non te levi da cavolo. Cattivo, tu sei... Sei cattivo? No, tu sei buono. Tutti quanti buoni? No, no, tranquillo. Oh, madonna, mamma mia, l'ho mirato soltanto per vederlo meglio, raga. Madonna, che bimbo. Che cazzo? Tu continua a crederci, bimbo. Continua a crederci. Scusami, 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 non volevo farlo, eh... Che poi c'è, secondo me, sarebbe già rotto di tutto quanto. Ok, quindi, può andare là noi? Poi, non so se andarci proprio stelt, così, tanto... Ok, no. Vabbè, è soltanto un punto. Ok, stiamo in zona viatata, quindi... Dei mostratenti. Ok. Dei adivinire sta missione. Ok, c'è un ragazzo che dovrebbe essere dedicato in farmacia? No, mazza, che bastardo. No, raga, questo qui l'ammazzo subito. Questo l'ammazzo subito. Va, questo qua ho deciso che l'ammazzo. Poi, anzi, raga, prima di ammazzarlo, voglio entrare in un calderone. Sendo di là, voglio vedere che succede. Ok, dai, viacce, viacce. No, là. Va giù. Ok. Ah, ok. Ma che cosa vuoi? Eh? Cosa vuoi? Le botte? Ok. 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 Mamma mia, raga, il devasto. Boom! Che poi, raga, non ho capito quando stanno i colpi di pistola, cosa devo fare? Perché ho visto che quando stanno i colpi di pistola, vi puoi unire di premere Y, però... Vabbè, poi, quando mi ricapiterà, tengo premuto, anziché premerlo soltanto una volta. Ecco, tipo in un calderone come questo, però... Tipo questo, raga. Vai in giù. No, che cacchio. Vai, vai in giù. E così li puoi andare qua sopra. Ah! No, muoio! Ok, ho capito che muoio. Sei vero, ma giusto. Ok, da qua, quindi, vediamo... Ok, devo andare di là. E per andare di là, penso che si deve salire. Vediamo, esatto. Ciao! No, scusami. Mori, 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 mori. Boom! Mori. E mo' dei mori, però, eh. I stitani, intanto, tutti i bambini, tipo... Oh, che cosa sta succedendo? Ok. Guarda, bellissimi. Lo guardano, tipo, con un'aria... L'abbiamo preso pure un coltello. Ok, ci stiamo... Eh, là l'ho visto, eh, là l'ho visto, raga. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Hello, motherfucker. Boom! Mori, stava parlando con uno. Ah, ecco, infatti, stavo dicendo, stava parlando con uno. Un mammino. Sta. Che vuoi? Scusa, non ho capito. Cosa vuoi? Vuoi le botte? Guarda lì, quanti sono, là. Io direi di lanciarli. Ci arriva? Eh, non ci arriva, zi. Non ci arriva. Ma guarda quanti sono. Ok. Sono un botto, so. Vai di là, vai di là, vai di là, vai di là. No, vai in giù. Ok, qua. Ok, vai su, vai su, vai ancora più su. Punti d'accesso. Ok, io dovrei assassinare quello. Ma prima, devo... Non voglio far cazzate, quindi... Mori. Oh, merda. Vai, voglio le botte qui. Volemo le botte, volemo le botte. Ok. Il devasto, raga. Tu cosa vuoi? Pic. Ok, fatto. Dopo così a caso. Uccido gente così a muzzo, tanto perché... Per sport, raga, per sport. No, invece troppo per Assassin's Creed è stata cosa. Secondo me i 15 uniti sono quasi finiti, quindi il modio sta un secondo attento. Ok. Qua punto d'accesso, quindi vediamo i punti d'accesso dove stanno. Altri punti d'accesso. Qua un punto d'accesso, vediamo. No, mai nella vita. Uccidi questo. BAM! Così intanto dovrebbe essere pure questo. Madonna, raga, qua il devasto, tipo... Peccato, non ci sta tipo l'animazione dei... Dei tipo bambini. Che dicono... IUUUUU! Intanto la tipo il bug è che il pavimento si leva. Vabbè, tipo i bambini fanno... IUUUUU! Ci ha liberato! Sarebbe tipo fighissimo. Cosa vuoi? Cosa vuolete? Cosa vuolete, raga? BOM! 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 Volete botte? Oh, bella questa! Bellissima! Bella, bella, bella. Mi è piaciuta questa. Pure questa! Chi manca? Chi manca, raga? Ok, nessuno, nessuno. Non manca nessuno. Vabbè, però siamo in roba a cazzeggiamo, eh. Cioè, mostro, ma fa... Davvero è un botto di soldi e quindi si stanno. Cioè, tre soldi... Ognuno ha tre soldi, quindi... Oh, ciao! Che è? È la bua? Grazie. Vediamo questo dei dammi più dei tre soldi. Ok, andiamo pure una lametta. Ok, noi dobbiamo andare l'assassina. Quindi, punto d'accesso sta là, quindi vai. Corri! Di qua, va di qua. Ok, il punto d'accesso sta là. Sì, ho assassinato, mi dispiace. Cioè, la vita. Ok, ragazzi, abbiamo pure finito la missione. Quindi, ora, se finiscono i 15 minuti, va benissimo, benissimo. Cosa credi di aver ottenuto, ragazzo? Hai allentato un bullone della macchina di Starric. Ok, un grande bullone. Ma non basta. Il gran maestro che fa. Voi assassini potete anche accerchiare Londra in Italia. Vi lascio un secondo video, eh, raga. Non parlo. La macchina che noi abbiamo creato ha operato a centinaia di anni. E durerà per mille. La macchina è la città stessa. Noi vi strapperemo lontra dalle mani. Da Croidon. Vivete nel lungo, come con i morti. Io ne dubito. Intanto è morto. Ok. Proprio, ci veniamo pure al suo sangue, proprio con le infezioni. Così a caso. Ok, posso depredarlo pure? Che tipo questo qui mi darai proprio i soldi. I soldi, ragazzi. Proprio veloce ai soldi che arrivano. No, no, ragazzi. Non lo posso depredare. Cosa c'è? Cosa c'è? Che c'è? Vabbè. Non lo so io a volte, vabbè. Ok, comunque ora bisogna andare di qua e poi penso di aver finito. Raggiungi. Ok, ho finito. No, ancora no. Vabbè, in pratica questo qua è... Vabbè ragazzi, comunque ci vediamo alla fine. Ecco. Corri, 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 corri avanti, corri avanti, corri avanti. Iiii, che schifo. Ci vuole venire? Ci vuole venire, eh raga? Ci vuole venire? Non so l'hai visto, eh. Vuole botte? Vuole botte? Vuole botte? Non ho capito. Vuole botte? Non ho capito. Eccolo. Ecco le botte. E ho avuto le botte. Hanno avuto le botte. Cosa c'è fosse da? Raga, ma sono botto però, eh. Vabbè che hanno avuto le botte, però sono troppo rotti. Ancora. Mori, e mori, e va a morire. Dai, te sponno? Dieci? Ok, morti. Cioè raga, non so portare difficoltà. Motivo, prossimo livello, 50.000 morti farò. Comunque ragazzi, aspettiamo qua, vediamo se a finirlo. Ok. Ancora? Questi qua? Mamma mia quanto devono rompere. Boom! Ok. Mo' vediamo... Che hanno fatto? Hanno cambiato direzione. E allora? Oddio no, raga, se l'ho bloccata. No, è proprio un canyon che è, raga. Non ho visto. Non so che è, vediamo se il motocamme gioca. Vai, corri forest, run, run. Ok. Allora, scusa. Hai pagato il biglietto? Ok ragazzi, comunque abbiamo finito quella missione, quindi direi di lasciarci qua. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel, ecco, un bel mi piace, invece non mi piace, non vi è piaciuto, con relativo commento così almeno capisco cosa ho sbagliato e potrò correggermi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto un bel pollicione in su, commentate, condividete. Ciao a tutti, al prossimo video. Grazie.